eccoci pronti di buon mattino perché alle 12 30 oggi riparte la serie a con le prime partite del 2020 allora voglio proporvi un video che vi è piaciuto e che se vi piacerà potremo riproporre anche nelle prossime settimane dimostratemelo come al solito con i vostri commenti i vostri riscontri i vostri like allora vedremo di farne se vi piacerà un appuntamento fisso ed è l'appuntamento con le curiosità le statistiche per prevedere il turno di serie a statistiche che come vi dico sempre io trovo sull'app di one football vi metto il link in descrizione per poterla scaricare perché le statistiche ci danno sempre un'immagine di quello che è stato fino adesso non possono logicamente prevedere il futuro però ci possono portare un po più in profondità per analizzare queste partite e allora visto che i dati sono tanti e bisogna essere rigorosi precisi con i riscontri scientifici tiro fuori il mio fido quadernetto dove appunto tutte le cose che mi interessa fissarmi in mente per quanto riguarda le partite e in questo caso per il turno di serie a allora andiamo a ragionare partita per partita iniziamo proprio dal primo match ufficiale del calcio italiano nel 2020 ovvero l'anticipo delle 12 30 fra brescia e lazio la lazio ritorna in campo dopo aver saltato l'ultima giornata nel del 2019 perché impegnata a vincere la supercoppa contro la juventus quindi ha una partita in meno rispetto alle altre così come ce l'ha l'ellas verona diciamo che la chiusura d'anno è stata straordinaria per la lazio però va a affrontare un brescia che si è sostanzialmente rialzato dopo il ritorno in panchina di corini infatti il brescia come leggo nei miei appunti ha fatto sette punti nelle ultime quattro partite tanti quanti ne aveva conquistati nelle precedenti 13 è un avversario complicato per la lazio perché comunque sì il brescia si è rialzato ha abbandonato il fondo della classifica però la strada da fare è ancora tanta è anche vero che la lazio fra i tanti numeri stra positivi che è presente in questo momento ce n'è uno veramente strabiliante la lazio ha segnato almeno due gol nelle ultime 11 partite di serie a è successo solo una volta nella storia del calcio italiano che una squadra abbia fatto una striscia più lunga con marcature multiple consecutive e questa squadra fu l'inarrivabile grande torino lo fece nel 1948 segnando almeno due reti per 13 giornate di fila in zaghi ha anche nel mirino il record di ericsson per cui è una partita che può essere storica in qualche modo per la lazio è una partita però anche complicata è una partita che si svilupperà anche sui duelli individuali i faccia a faccia ad esempio quelli quello fra i due uomini gol di riferimento per le due squadre che hanno però cifre diverse in questa sfida ballotelli alla lazio non ha mai segnato mentre immobile è stato anche nel 2019 il capo cannoniere del calcio italiano della serie a nell'anno solare gli è capitato per la terza volta consecutiva immobile è stato il capo cannoniere del 2019 del 2018 e del 2017 una sola volta nella storia del nostro calcio un giocatore è stato il capo cannoniere dell'anno solare per quattro anni consecutivi ed è stato il grande bonimba roberto boninsegna dal 70 al 73 per cui immobile deve cominciare fin da subito a fatturare se vuole arrivare a pareggiare questo incredibile primato seconda partita della giornata di oggi una partita comunque in chiave salvezza anche se l'ellas verona ha fatto una prima parte di stagione assolutamente sorprendente la partita è quella del paolo mazza spal verona ed è un confronto che almeno a livello numerico a livello statistico sulla carta non si presenta come la sfida più turbinante possibile perché è il match fra le due squadre che hanno fatto meno tiri nello specchio della porta in tutta la serie a la spal oltretutto al peggior attacco del campionato ha segnato solo 12 gol e 9 delle ultime 12 squadre di serie a che hanno segnato così pochi gol nella prima parte di campionato nelle prime 17 partite sono poi retrocesse è vero che la spalla ha ottenuto un colpo fondamentale nell'ultima del 2019 andando a vincere in casa del torino però questa è una partita che vale quasi come una finale per gli uomini di semplice quest'anno per la spalla i confronti diretti in casa non sono quasi mai stati positivi per cui c'è da invertire una tendenza vi ho detto è una partita che si preannuncia come abbastanza chiusa abbastanza speculativa però potrebbero esserci sorprese ad esempio l'ellas verona squadra che ha brillato per organizzazione per solidità difensiva specialmente nei primi mesi di campionato un po meno per capacità realizzative segna però da sette trasferte consecutive anzi da sette partite consecutive in campionato quindi l'attacco si sta muovendo ci sono anche dei discorsi di mercato attorno all'ellas verona c'è una squalifica importante quella di amrabat che toglie dei riferimenti centrali a juric però il verona sta trovando nella via della rete quindi questa è una cosa da considerare e anche la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in trasferta ben nove cosa vuol dire che il verona ha trovato spesso il modo di andare in vantaggio in campo esterno ma raramente la possibilità di mantenere questo punteggio positivo per cui potrebbero anche arrivarci delle sorprese nello sviluppo di questa partita nel senso ci aspettiamo una gara chiusa magari incastrata sullo 0 a 0 magari da decidere con qualche dettaglio come le palle inattive e invece potrebbe anche essere una partita in grado di riservare dei gol difficile ma non impossibile terzo match della giornata di oggi è un altro match molto delicato è il match di marassi fra genoa e sassuolo con il debutto sulla panchina rosso blu di davide nicola che ritrova una panchina in serie a e la ritrova in un posto estremamente significativo per lui ovvero genoa genova il genoa genoa che non vince da otto partite nel nostro campionato e nessuna squadra in serie a ha un'astinenza così lunga altrimenti non ci troveremmo di fronte al terzo allenatore stagionale per il rosso blu una partita che può portare a nicola la possibilità di costruire a livello tecnico e a livello tattico perché comunque sassuolo è squadra che gioca aperta ma il gol non è stato un problema fin qui per il genoa più che altro il problema sono stati i gol subiti è una squadra che ne ha presi decisamente troppi il sassuolo in trasferta sta andando bene è imbattuto da cinque gare esterne e della sua miglior striscia storica in serie a per cui non è sicuramente un cliente agevole anche se l'idea è quella di una partita da giocare una partita in cui ci saranno magari degli spazi per sviluppare il calcio e vi parlavo della statistica dell'ellas verona ovvero la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in trasferta per il sassuolo la statistica è ancora peggiore ovvero nei cinque principali campionati d'europa che vi ricordo sempre sono serie a premier league liga ligan e bundesliga il sassuolo è la squadra che ha perso più punti in assoluto da posizioni di vantaggio addirittura 26 nel 2019 questo vuol dire che sarà verosimilmente una gara aperta fino alla fine me l'aspetto in questo modo per il tipo di squadre che sono per l'importanza della partita e anche per quelli che sono i numeri che ci vengono presentati a chiudere il programma della domenica di serie a c'è il match delle 20 45 all'olimpico fra roma e torino le due squadre che hanno fatto più gol nei primi 15 minuti di partita in questa serie a tre a testa è forse l'unico dato numerico che hanno in comune in questo momento roma e toro perché per il resto l'attualità è praticamente all'opposto la roma sta benissimo viene da quattro vittorie di fila in casa non arriva a cinque da due anni questo testimonia il grande lavoro fatto in tempi molto brevi da fonseca e anche la grande capacità che ha la roma di fare risultato sul proprio campo non solo di fare risultato ma di non subire il risultato in generale perché la roma nel 2019 in serie a ha perso solo cinque partite dato e guagliato esclusivamente dalla juventus sono riscontri di una squadra che è in grande fiducia sta molto bene ha la capacità di sviluppare un gioco codificato un gioco mandato a memoria arriva invece un toro che ha chiuso malissimo l'anno con la sconfitta interna con la spalla direi in generale anche con il pareggio di verona erano due partite che fanno fungere da trampolino per l'incostante squadra di mazzarri e invece un punto in due gare contro ella se spalla e il natale non è stato per nulla sereno non è stata buona la partenza del toro direi decisamente negativa 21 punti nelle prime 17 partite per i granata è la peggior partenza degli ultimi cinque anni per il torino in una stagione in cui ci si aspettava un consolidamento quantomeno visto che il toro l'anno scorso è arrivato settimo in campionato qualcuno addirittura sognava un passo in avanti invece di passi ne sono stati fatti all'indietro oltretutto la roma è la squadra contro cui mazzarri ha perso più partite nella sua carriera da allenatore per cui c'è anche questo dato a pesare sulla schiena del tecnico granata pesano soprattutto le tantissime assenze il toro senza ansaldi ha vinto solo il 25 per cento delle partite che ha giocato in questo campionato con ansaldi invece nell'undici titolare ne ha vinto il 39 per cento tutti i dati che insomma danno indubbiamente il pronostico a favore della roma il torino dovrà fare delle cose piuttosto diverse da quelle viste ultimamente per fare risultato anche se il toro anche per il tipo di squadra che è per il tipo di impostazione che gli ha dato mazzarri è una formazione che tende a fare meglio nelle partite difficili nelle partite contro squadre di rango contro squadre che fanno la partita piuttosto che quando è il toro a doverla fare la storia del campionato parla piuttosto chiaramente trasferiamoci ai match che verrebbe da dire della domenica in realtà sono i match del lunedì però è giorno di festa visto che si tratta del 6 gennaio del giorno dell'epifania ed è un'epifania che si apre con un confronto di grande tradizione un derby classico del calcio italiano quello fra bologna e fiorentina una partita che mette molte urgenze soprattutto ai viola ed è una partita che vedrà un altro debutto quello di beppe iachini alla guida della fiorentina è un debutto difficile per iachini perché il bologna è in forma e vuole rompere una statistica storica perché il bologna non batte la fiorentina da sette anni negli ultimi dieci precedenti fra bologna e firenze sette successi viola e tre pareggi il momento sembra interessante per la squadra di miailovic per poter superare questo tabù del degli ultimi sette anni perché perché il bologna è sempre andato in gol nelle ultime undici partite e non arriva a 12 da quasi 18 anni non è una squadra che segna valanghe di reti ma è una squadra che ha preso regolarità l'impostazione è molto offensiva c'è stato un po di disequilibrio nella prima parte di stagione però le ultime uscite hanno mostrato un bologna assolutamente convinto e anche in grado di fare risultati importanti penso soprattutto alla penultima vittoria del bologna l'ultima ottenuta sul proprio campo dall'ara quella contro l'atalanta dall'altra parte c'è una fiorentina che da inizio novembre è la squadra che ha fatto meno punti in tutto il campionato due nelle ultime sette partite infatti montella è stato sentenziato come detto però abbiamo una nuova guida tecnica la guida tecnica di beppe iachini che ha avuto un'accoglienza un po mista sicuramente è uno ricordato e rispettato a firenze sicuramente è un allenatore di grande esperienza infatti la fiorentina sarà la sua nona squadra in serie a e nell'era dei tre punti solo alberto malesani ne ha guidate di più con undici però anche una scelta che dichiara quasi apertamente la necessità di un campionato di lotta per salvarsi e questo a firenze soprattutto dopo un avvio di grandi sogni di grande entusiasmo è un qualcosa che mette tristezza e mette anche un po di paura lottare vuol dire aggrapparsi anche ad ogni dettaglio e io credo che in questo derby fra due squadre storiche del centro italia del centro nord italia il dettaglio da osservare da vicino saranno le palle inattive perché perché il bologna è molto forte il bologna è la squadra che ha fatto più gol su calcio d'angolo 6 al pari della roma ed è soprattutto la formazione che ha segnato più gol sugli sviluppi di palla ferma di azioni di strategia nel 2019 ben 26 uno dei tanti meriti portati da siniscia miailovic a questo gruppo a questo club con il quale c'è una fusione totale con il quale in questo momento sembra essersi trovato anche il ritmo giusto per scalare la classifica sono tre le partite del pomeriggio della befana e sono tre partite tutte estremamente brillanti estremamente interessanti ed estremamente pesanti inizio da atalanta parma una partita che mi interessa particolarmente perché la commenterò dal gvi stadium ed è una partita che promette parecchie scintille è soprattutto la partita di dejan kulusevski il suo presente il parma contro il suo passato l'atalanta pensando al suo futuro visto che è stato uno dei primi superbotti del mercato invernale con l'acquisizione ufficiale da parte della juventus per cui sarà estremamente osservato kulusevski in una partita che anche in questo caso a livello numerico propone uno sbilanciamento perché ci saranno di fronte il miglior attacco del campionato quello dell'atalanta 43 gol e la peggior difesa del 2019 di serie a il parma ha subito 58 gol nell'anno solare al pari dell'udinese nessuno ne ha presi di più oltretutto un'altra statistica che in qualche modo può avere un'incidenza relativa sulla partita ma propone una storia abbastanza netta è quella che ci dice che gasperini da quando è a bergamo ha sempre vinto la prima partita dell'anno solare ripeto sono numeri che poi sul campo non ti portano niente però vogliono dire qualcosa a livello storico il parma è un avversario che l'atalanta deve temere deve prendere con le molle perché perché è imbattuto da cinque trasferte due vittorie tre pareggi negli ultimi viaggi con anche il colpo ottenuto su un campo importante come quello di napoli è una squadra che sa andare molto bene in contropiede e l'atalanta la conosciamo l'atalanta non si snatura l'atalanta è una squadra che ti attacca che ti affronta nell'uno contro uno il parma anche al netto di qualche assenza pesante soprattutto davanti a dei giocatori che possono far saltare il banco in questo senso però attenzione perché sarà una partita tutt'altro che segnata finché non avremo l'epilogo ufficiale perché sempre parlando di punti raccolti da posizioni di vantaggio svantaggio l'atalanta è la squadra che ha fatto più punti dopo essere andata sotto nella partita ben 31 nel 2019 e nei cinque principali campionati d'europa nessuno ha mostrato questo carattere nessuno ne ha recuperati così tanti per cui mi aspetto veramente di divertirmi di commentare una partita estremamente spettacolare con tanti riferimenti individuali ma anche due squadre che hanno filosofie quasi all'opposto ma filosofie estremamente marcate estremamente radicate quando delle squadre hanno identità vanno sempre a fare delle partite di sostanza sempre alle 15 del giorno della vefana si fermerà tutto a san siro perché tornerà a ibra è sempre più probabile la sua presenza addirittura dal primo minuto sicuramente la milan deve dare una sterzata dopo la cinquina subita nell'ultima partita dell'anno è arrivato questo colpo fortemente mediatico e il milan credo voglia dare la dimostrazione fin da subito che non è appunto solo un colpo mediatico ma un grande colpo di mercato milan che non ha segnato nelle ultime due partite di campionato 0-0 col sassuolo e 0-5 con l'atalanta non gli era mai capitato nel corso del 2019 e che il problema sia quello del gol è ormai apertamente acclarato ibraimovic arriva per risolverlo e ibraimovic nell'era dei tre punti per vittoria è il milanista con la miglior media gol per partite giocate in serie a 0.69 media altissima ha segnato 42 reti in 61 presenze nel nostro campionato sono passati degli anni ci sono situazioni tutte da verificare da testare però ibraimovic si presenta con questo tipo di score con questo tipo di numeri però è un po difficile almeno analizzando le statistiche immaginarsi una partita con una valanga di reti anche perché milan e sampdoria sono due delle quattro squadre con la peggior percentuale realizzativa del torneo le altre due sono udinese spal cosa vuol dire che sono due delle quattro squadre che fanno più fatica a concretizzare i loro tiri anche per questo è arrivato zlatan ibraimovic la sampdoria la sampdoria si presenta sull'onda di una classifica sicuramente non tranquillizzante ma anche di un rendimento dopo il cambio in panchina che dà qualche certezza in più perché ad esempio la sampdoria da novembre ad oggi quindi contando i risultati degli ultimi due mesi di campionato sarebbe nona in classifica ha ottenuto 10 dei suoi 15 punti per cui è una squadra sicuramente che arriva con degli argomenti da opporre al milan sarà una partita piena di momenti anche storici mi viene da dire però una partita piuttosto tesa piuttosto elettrica sicuramente non una partita facile per il milan così come è tutt'altro che facile la prima partita del 2020 per la juventus la juventus ha chiuso il 2019 perdendo il primo trofeo della sua stagione c'è dunque voglia anche necessità di rivalsa e c'è questa partita casalinga contro un cagliari che ha chiuso a sua volta in flessione dopo una prima parte d'anno veramente da sogno però il cagliari è squadra vera questo lo abbiamo capito questo è stato dimostrato per cui sarà una partita importante quella dello stadium cagliari che nel decennio che si è appena concluso non ha mai battuto la juve l'ultimo successo dei sardi è datato addirittura novembre del 2009 un decennio intero senza successi si dice anno nuovo vita nuova in questo caso decennio nuovo vita nuova vedremo sarà molto difficile per il cagliari fare risultato anche perché la juventus è imbattuta è rimasta imbattuta in casa nel 2019 e nei cinque principali campionati d'europa solo liverpool e barcellona hanno raggiunto questo traguardo la juventus non perde una partita in casa addirittura dal settembre del 2017 per cui al cagliari non serve un'impresa ne servono due fuse insieme praticamente ci sono però un po di dati che consigliano prudenza consigliano una partita magari anche più equilibrata del previsto soprattutto quelli che riguardano i gol segnati dal cagliari e subiti dalla juventus perché la juventus solo in cinque partite su 17 in questa serie a ha tenuto la porta chiusa era dalla stagione 2010 2011 che non otteneva così poche clean sheet cosa vuol dire clean sheet è un termine sempre più utilizzato anche nel gergo calcistico italiano deriva dall'inglese clean sheet foglio bianco vuol dire appunto partite chiuse senza subire gol solo 5 su 17 nel campionato della juventus mentre il cagliari segna consecutivamente da 10 trasferte per cui la possibilità per i rossoblu isolani di andare a fare gol allo stadio almeno statisticamente sembra esserci poi però ci sono anche gli uomini che possono ribaltare completamente queste situazioni e se parliamo di uomini prendo i due totem delle due squadre da una parte cristiano ronaldo cristiano ronaldo sempre in gol nelle ultime quattro giornate di serie a da quando veste la casacca bianconera non è mai arrivato a cinque partite consecutive timbrando nel nostro campionato cristiano ronaldo è uno che ama molto superare ogni record superare ogni limite per cui state certi che ha in mente questo tipo di statistica dall'altra parte chi è il riferimento principale ovviamente rajah naengolan storicamente tutt'altro che un amico della juventus sia a livello di propensione di dichiarazioni che a livello proprio concreto sul campo perché nell'ultime quattro sfide alla juve naengolan ha calato due gol e un assist per cui è uno che sa rendersi anche effettivo in questa sfida e sarà sicuramente uno dei protagonisti mancano due partite ad analizzare nel turno alle porte e sono due partite molto diverse uno un confronto salvezza l'altro una sfida fra le più importanti dell'anno alle 18 del 6 gennaio si gioca lecce udinese al via del mare entrambe hanno assolutamente bisogno di fare punti e queste sono le classiche partite come si diceva una volta quando si giocava al totocalcio da tripla sono partite senza mezzi termini infatti le artisti che ci dicono che lecce udinese ha visto il segno x ha visto il pareggio solo una volta negli ultimi 26 precedenti anche in questo caso il pareggio servirebbe a poco soprattutto a lecce che in casa deve trovare un passo completamente diverso in questa seconda parte di campionato se vuole evitare guai è difficile dire come andrà a finire anche perché il lecce è la squadra con il peggior ruolino casalingo in questa serie a solo quattro punti fatti l'udinese è la squadra che ha raccolto di meno in trasferta solo quattro punti conquistati è una partita aperta a qualsiasi tipo di epilogo e di solito in questi casi vengono fuori partite abbastanza spettacolari ma lo spettacolo ce l'attendiamo soprattutto dalla gran chiusura di questo primo turno dell'anno dal match del san paolo napoli contro inter poteva essere pensato addirittura come un match scudetto a inizio stagione e invece è il confronto fra due squadre che sono andate all'opposto l'inter una delle migliori in assoluto e direi la più grande rivelazione la più grande sorpresa non è un termine troppo forte io francamente non mi aspettavo un inter già così pronta già così attaccata alla juventus nonostante oltretutto tutto quello che è successo nessuno poteva minimamente immaginarsi un napoli confinato così in basso così lontano dalla possibilità non solo di lottare per lo scudetto quella è assolutamente fuori da ogni logica ma anche di qualificarsi per la prossima champions league sarà davvero difficile secondo me per il napoli arrivare fra le prime quattro e chiaramente ci vuole un'accelerazione immediata in un gennaio che presenta che un calendario difficilissimo ai partenopei però di difficilissimo in questa sfida c'è il campo del san paolo per l'inter perché l'interno vince a napoli dal 1997 in serie a il napoli che nelle ultime 13 sfide in casa contro l'inter ha ottenuto nove vittorie e quattro pareggi per cui c'è da vincere anche una resistenza storica per la squadra di antonio conte è anche vero dall'altra parte che il napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite che ha giocato contro una formazione in testa alla classifica all'inizio del turno quindi c'è un problema per gli azzurri nel confrontarsi con una capolista e di problemi ce ne sono parecchi in questo momento anche se la vittoria ottenuta contro il sassuolo nell'ultimo turno ha tolto qualche peso a gennaio gattuso gattuso che sfiderà conte due tecnici di grande carattere estremamente vulcanici nel dugout e conte ha di fronte la possibilità di stabilire un record molto importante perché la prossima sarà la centesima vittoria di antonio conte su una panchina di serie a dovesse ottenerla domani sera al san paolo sarebbero 100 vittorie in 145 panchine nessun allenatore che ha debuttato da quando in serie a si assegnano i tre punti per vittoria è arrivato così velocemente a 100 successi sarebbe un esito veramente veramente significativo per un allenatore che ha cambiato tante cose nel nostro calcio e non si può si deve definire uno dei migliori tecnici del mondo anche in questo caso però al confronto non solo fra gli allenatori non solo fra i club non solo fra le loro storie le loro attualità ma anche fra gli uomini che scendono in campo e anche in questo caso prendo i due riferimenti principali offensivi perché ci si aspetta sempre la gran partita del goleador del centroavanti numeri sbilanciati milic non ha mai fatto gol in quattro partite contro l'inter e visto che non ci sarà neanche mertens e mili che dovrà sbloccarsi se il napoli vuole avere delle chance di fare risultato dall'altra parte romelo lukaku ha già stabilito un primato e questa è l'ennesima dimostrazione di quanto sia stato importante l'acquisto del belga per l'inter e di quanto sia forte e impattante questo giocatore perché perché lukaku nelle sue prime otto trasferti in serie a ha segnato otto gol nell'era dei tre punti non c'era mai riuscito nessuno questi sono i numeri per presentare la giornata di serie a anche dal punto di vista delle curiosità però sono numeri che ci parlano di momenti che ci parlano di tradizioni che ci parlano di possibilità adesso però chiudiamo il quaderno lo mettiamo via perché parla al campo torna al calcio in serie a e non vediamo l'ora di godercelo